No mai Granchiobot, grande nemico Ma io non so se ti ricordi come era La vecchia skin di Giant enemy crabbot Era ridicolo Certo Certo Crabgot A casa Devo far cedere in là Siete pronti a vedere come era la vecchia skin Di giant enemy crabbot Eccolo qui Con sta donna rapita Mamma mia Sessismo a gogo Una delle skin più brutte Mai fatte penso in League of Legends Cioè era inguardabile Ed era bello per questo secondo me Vabbè aspetta Lollipop anche non scherzava a livello di inguardabile Era così brutta che era un meme Sì Cioè sì Però Giant enemy crabbot Era Veramente Veramente figo Fatto di non so quali Cioè adesso sembra effettivamente cattivo No? Tipo sto Urgot gigantesco Sottomani con la nave lì Che Sei te Urgot Disegnato male Con una donna In vestaglia Rapita Sto facendo vedere lollipop Ah minchia Pure quella fa piangere Allora Water Trade Center Si chiami Un binlaner Buona sapersi Sanza di Un mix di droghe Tutte insieme mischiate Vai Doran ovviamente blade Warwick non è bellissimo come skin Non si può dire non è la mia preferita di Warwick Warwick grande skin quella sì Buonasera Ma parlando di skin base Quanto è brutto Singed skin base Per me Allora per me Il champion skin base Più brutto in assoluto È Jax Attualmente Che sembra un fazzoletto Con un bastone Basta Sì Ma anche uno dei Forse è il modello Più vecchio del gioco Può essere Beh oddio anche Malfight No Jax Penso è al più Jax Malfight Udyr Sicuramente Singed Udyr a breve Sarà graziato Eh Io spero che Jax Non lo cambia Grazie Beh grazie Ecco Come fai Chiana Contro la mia puzza Ma chi è questo Twitch E come ma è qua Ah vuol fare il cheese Livello 1 in top Non so cosa stia facendo Ti giuro Questo bronzo Io non lo riconosco No infatti C'è qualcosa Oh tutti i top Stanno arrivando Eh Ah che ti devo dire Ingancia Ingancia Sì vabbè Fiesta Ho metto un ignite Su un ignite Ah ok Ha flashato Per togliersi ogni dubbio Ok ragazzi Ti giocano meglio qua Che in gold Oh Diana Diana Oh Manco a dire SmurfQ Perché non è ancora SmurfQ Troppo presto Ma forse tu No lo so Quante vittorie hai? Tante Ma tu hai giocato a Fortnite Senza muri No non ci ho giocato Ci ho giocato Quando c'era ancora i muri Cazzo Non li hanno rimessi C'ho un attimo Il support qui In una posizione strana Che mi sta rubando Exp Vabbè Bella per lui Cattivissimo Sto granchiobot Grazie Twitch Ah sta qui per fare il 2 Capisco Però Ah In realtà L'exp piaceva No niente Vabbè Oh prendila Che ti devo dire No ma io ho attacso C'è qualcosa che non qua Termin C'è guarda C'ho il babysitter Midlin Ah Twitch Livello 2 Già è tanto L'ha scorccato da te Livello 2 immagino Sì sì certo Come attaccare la torre Poi che c'è ancora Il blocco là Ma non me la sento Di cacciarle Così carino Ah no io sto qua Guarda Poi non mi ruba i mini Non solo l'exp Che sì insomma Sarebbe importante Però No Ma quella è una tecnica Avrà visto qualche streamer Che roma Lasciali in pace Troia Via Ho visto che è scattata E tu l'hai respinta Isto Pure ecco molto ballerino Ora io sono al 3 L4 Vabbè Vabbè Non è sempre domenica Io guarderei Il gesto È stato molto carino Sì 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 Grande bonobo Grande farming Da quando si è dropato a bronzo No 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 Questo è uno smurf Però manca poco Tra l'altro è silver Eh vada Da quello che dice Un brozo L'avrebbe perso Ah Pure gli invade Fanno Mamma mia Non smettano di stupirmi Ecco qua Comunque Twitch è tornato L'abbiamo anche illata C'è un player meme In ogni game Assurdo Sì Eh però stanno abusando bot E rip Ah figurati Chi l'avrebbe detto Vero Non si è manco me lamentata Chissà se sono premade Troppo strano Ma saranno premade È impossibile che Non si metta a flammare Eh però Moff Twitch li punisce Vero? No? Ah però lì Ah c'è ecco Vabbè Bella lì Sì ecco però killalo C'è Troppo forte questo ragazzo Vabbè Sì lo penso anch'io Che conviene giocare qua Che nel main Mi ha fottuto anche la kill Sì però Vabbè tant'ora ce la fai a fartela da sola Sto guardando Ciao Fieric Non riesco a passare Sei grandine È chiaro Piggiato i tasti Sono morto Va bene Per questo anche tu L'hai premuti L'acqua Io ho pigiato il mio unico tasto L'hai fatto Tic 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 Ops Il nemico è morto La combo avanzata Perché la combo base È click destro L'avanzata è q click destro Sì Mi pare Sì Vabbè quello ho fatto Non è che c'ha altro Ok Eh sì Cioè va a finire che va Preventi i miei soldi Nonostante tutto Insomma Diciamo che quella assist lì Avesse avuto la killer Sì ma parliamo di cose serie Quante stack di cacciatori di tesori hai Una Quante ne devo avere Chi ha una alla fine è morta Sto registrando Sì Ah Twitch doc è bello Ciao Fier Due mesi è live con B6M Meglio di così Sparca questo silver Grazie Dani Giù per i due mesi Bentornato Dani Grazie tante caro No ti prego Non mi prendere Non mi tirare Grazie anche a Lollo P147 Grazie al Prime E l'enstingi Grazie al Prime È bro stavo scappando Perché stava facendo Quella cosa brutta Eh no Non voglio essere odiato Ti amo Ah ah You are so reported No vince È finita Ti flammerà a morte No Ti flammerà a morte È finita Permabam Sicuramente la Riot Ti per Sì Forbid bad Ah che l'ha anche detto È il famoso report Della gente che fa schifo Ce l'avrà con te Per tutta la partita Che pure Kaisa Si è unita Anche se non hai A fine di me Di cosa è successo Un vero bro Ti flamma Quello che stai flammando No 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 Kaisa sta flammando Pinch Attenzione Lo stavo guardando Allora non so Premade Boh Non lo so Ah boh Eccole gentilmente Mi ha dato una mano Perché da solo Non bastava Il mio hint Ha fatto bene 8 Non so tutto Tore gente Non so cosa volevo Vabbè Ah meno male Che andrò full crit Quindi scalerò Non vedo l'ora Di sapere Cosa ne pensa Twitch Della mia build Si A volte i player Che giocano Muore Ah ecco sarà meglio Che cazzo Ci mancherebbe Altra qua Due coglioni Va bene Si scala Si scala Io ancora Livello 5 Madonna Diana Ma fa Eh ma c'è Urgot Mi sa Urgot Se solo Avessi il 6 Cielo Beh devo rubare Chi da qualche parte Questa build crit Non si farà da sola No Chissà Diana Che sta facendo In questo momento Quattro vorrei avere L'oniscenza Suprema Divina Vengo Vengo top Prendiamolo O ci kill Ci kill Per questo sto girando In giro per la map Vado top Cioè è troppa Farm Per lasciarla A me non importa Di queste cose materiali Puoi anche prenderla Se vuoi Io lo chiudo da sopra Ma in realtà Siamo noi chiusi In questo momento Io però non c'ho la munica Adesso Grande nemico Va ci vince Ho paura Ok ha preso te Non gli leva un cazzo La R ma Non so se lo uccide Non ci arrivo Tu ci arrivi Let's go Hai visto Vincenzo È questione di crederci Fieric Questione di credere Ne ha poi usato l'ignite La scimmia Vai pusha pusha Sì 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 Mo vado Sei secondi Grazie Grazie Capo grazie Vai vai Plating Plating Ottimo Così posso Sono quasi a metà Quanti soldi hai preso Settecento Picchia picchia Back 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 Non ce la facciamo Un'altra No io devo scappare C'ho l'oggettino Poldo Grazie del ride Benvenuti ragazzi Benvenuti a tutti Sono quasi Morirò ma prenderò 160 Vincenzo stai attento No no Wort Wort Certo potevo prendere i minion Che era la stessa cosa Però i minion Vanno e vengono Le plinze Vanno e vanno Pure esisteva prima il report Giocatori inesperto Ah è vero che non è proprio Un Cioè report Non c'era niente Era per far sfogare le persone È vero che una volta esisteva Hey DC I'm at your lane I'm sup Tower down Che bullo Sì sì è una tecnica ovviamente raga Fa bene a ricordare che lui è il support Perché la DC non è che lo conosca tanto Che poi comunque è un umile 2-1-5 La DC Si è fatto rispettare lo stesso Nonostante la completa assenza Gran chiobot Grande nemico Madonna mia Che danni Che fa' sta cosa Questo c'ha Una cosa che è simile alla mia R Eh Guarda dove è andata Davvero da queste parti Io stavo mangiando Chi siete? Tranquillo vince Ah volevo qualcosa Ho lasciato la torre No 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 Ecco Partito il ping Niente Che poi sulla carta io sarei appena diventato silver Quindi cioè Sono autorizzato a giocare di merda Uffa Nemmeno in queste occasioni posso permettermi di giocare Stile libero Tre livelli sotto Ce la farà Kai'Sa bot? Ma volevo solo prendere No Ding 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 No Vincenzo Che cazzo hai fatto? Io non l'ho visto So solo che sei morto Mi manca poco a chiudere l'item Anzi posso anche vendere il doran e farlo subito Aspetta alimentiamo un po' il flame What is Garen doing? Pildavi l'item Cioè pingavi l'item Omg Inting Non lo so È davvero Che ridere alimentare le faide Ma questo? Oddio C'è gente Va bene Zgnaur dire qualcosa Tutto molto bello grazie E c'è l'herald Lo pingo gli alleati Magari a qualcuno interessa C'è qualche turco in chat che mi può dire Se ho detto almeno una parola Unlucky herald Oddio ma questo? Oh Arrivo Oh ma dove cazzo? Qua qualche kill L'ho presa Uuuu Fammi vedere un po' Che è questa? Come è possibile con ancora due cari? Ci scopa Ci scopa E E No ma quando mai ce l'avete fatta Date tranquilli Tutto grazie alla mia W Che blocchi i movimenti Sing it counter a Chiana Ricordatevelo Penso sapessero che sei Smurf No infatti sto pensando come alimentare il flame Non lo so volevo flammare un po' Twitch Dire support Diff Bro I'm Smurf I support Diff Tutto molto bene No ma io lo dico che sto smurfando Non li prendo Back Ouch Penso che volevo fare così per forza Ouch Uffa volevo fare un po' lo stronzo E Il Twitch Non l'ha visto Trash Strano Due livelli sotto Non subisce danno Scarpe Magic Racist Ovviamente Ma perché Twitch mi ha rubato l'Expo Impossibile che venga qua dentro a cercare È possibile Quasi il mio farm Twitch Bella quella R per poccare Manca poco vai vai No ho buttato la Gail Force Ma lei Twitch stop steal Ok Ma che è successo Vince è Ero a rubato una Kill Twitch Ah L'hanno fatto l'Assist Ma io ho rubato una Kill L'avrei Killato lì ragazzi Non è partita la E Non chiedetemi perché Forse non è in range No ero attaccato Vabbè mi accontentano delle strutture che sono queste Kill immobili Sono delle Kill ma di diverse categorie Sì Ma il Jinx è av... Cioè Sì sì lo so ma camminavo a casa Vabbè 1-6 Ha giocato 2 contro 1 in lane Oh piatela piatela Ma... Pronto Un po' morse Oh Stiamo lì quando quello preme la E Arrivo Què Moon Nets Come lo farai un'altra volta Io mi arrabbio È bella per Urgot mid Però serve un po' di potenza di fuoco qua Grazie alla runa Ho fatto i soldi di una Kill base Amo questa runa Ok Ho clearato la wave Grazie a Twitch ho clearato la wave Infatti io lascio pure il red buff Per continuare ad alimentare l'odio No cazzo è arrivata questa guardia Sì conversations Oh Vincenzo, oddio, oddio! Oh, c'è la taglia, vai a uccidere quella! Vai, bravo! Ma è un botta sta Jinx. Ah, è ora? Ah, io devo killare Jinx, mi dà la... Te la tengo, te la tengo, dai. Aspetta, tenila lì. Bravo, bravo, continua, continua. Dov'è? Vedo se sta regolando, spaccola dentro, vai, vai. Tienila! È tua. Ora si fa sul serio, puttanella. Ah! Grazie, vincenzo. Prego, prego. Killala adesso, però. No, 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 no! E non è... e mi ha bloccato! Eh, cucidila! GG. Worth. Se la dai a posto. L'importante è che sei contento. E vincenzo, purtroppo aveva la via di fuga. Io non volevo speccare la ulti per lei, e quindi... Mi stavo affidando alla tua superpotenza. Purtroppo, in quello spazzetto lì, ha tirato la E per terra, non ho potuto fare nulla. Io sto andando top. Ah, no, andiamo su questo. Ci sta Kaisa top. Oh, guarda sto cartino! Scimmia! Tienila più lungo, te la ulti, eh. No, te l'hai rubato. Oh, volevo flammare un po' quello. No, 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 no! Ti ammazza tu! No, 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 no! Uh! Uh! Ma cosa stai sopravvivendo? Non lo so! Vabbè, noi eriamo stu animale. Ma dove è andata quella? Ma dove sta andando? Aiuto, aiuto! Stai lì! E allora vieni da me! Ok, tranquillo. Ovvio, tra red buff è passiva. Ma top è morto! Sì, vabbè, ma che cazzo. No, 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 ce la si fa. Ma che se trappa. Ma Kaisa era 2-1-5, mo sta 2-5. Vabbè, l'infinity chiusa. Ce l'ho! Ma non posso fare l'infinity adesso è presto. Mi faccio... Oddio. C'è morto. Come c'è morto? Collector, no, ma mi serve attack speed. Con Garen. Ma che cazzo io so che il Collector ho la R? Beh, oh, per l'altra spell. Ci vediamo a un prossimo video. Ma fatti l'infinity, che c'è... Cazzo, ora sì. Sì, 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 sì. Ma ho fatto il secondo. Ora è il momento del terzo. Tra l'altro, cos'ha da più attack speed? Questa... Ma da quanto buco adesso. Solo Urgot è... Intoccabile, inarrivabile, mostro del male. Ma che cazzo sono questi ping? Ma non lo so. Moving un po' Twitch, dai. Din, din, dun, dun. Sta arrivando Urgot. È finita per noi. Non ha ancora il mitico Urgot, comunque. Ma questa come si uccide? Oh, ok, se però gli fai danni. Ma come? In che universo? Sì, sì. Non ci stava facendo. Ah, easy, easy, easy. Ah, qua stanno tutti smezzati. Oh, oh. Non ci sono più. Ah, ok. Tutto grazie a me, ragazzi. Non ti ha capito, Diana? Incazzo. Guardala. Ah, vabbè, lascia stare, ti killano. Oh! Non c'è qualcosa di averlo a posto. Amma mia. A cosa sono sopravvissuto, anche lì. Oh, chi è questa? Non me ne ero proprio accorto, però vabbè, l'ho preso. Grande. Ah, vabbè. Ai miei tempi Diana lasciava con la ulti, non con la E. No, no, adesso ce l'ha sempre. Eh, lo so. Appena lasciato, ritirata. Easy. Vabbè. Il Drake è nostro, sì. Meno male. È qualcosa. Ma ti vedo di scale. Madonna mia, è un libro, questa idea di Garen's Premi Shift. La possibilità può mettere, sì, i colpi critici infligge. Mi pare che il crit faccia il 33% del danno in più. Eh, una roba strana. Non ci capisco un cazzo. Vabbè, fa dann. Sì. Senti come pingano. Ding, ding, ding. Ah. Facile fare i campi. Ragazzi, è Twitch, però... Meme vivente. Garen, fuck. Sì, non griffare la partita, però. Ah, non la sto griffando. Cioè, questi soldi non è che li butto. I'm gonna lose intentional. Ecco, hai visto? Oh, guarda il fight. No, non è partita. Vabbè, è vero. Dato che io dopo questo game, questa counter, lo toccherò mai più, tu sì. Quindi, easy. E allora questo game è da vincere. Che perdi peli con uno, stronzo. Dai. Mi sta piacendo questa live grigia, raga? Un bel colore. Andiamo a scorrubare il gra, il gromp. Vai, grazie. E... Rubato. Back. Non so. Perché se me lo mangio troppo, poi mi passa la voglia. Tipo, ti potrei dire il sushi, ma forse dico sushi perché non lo mangio troppo spesso. Può essere. Qual è il tuo cibo preferito? Eeeh... Chi vive di palestra non c'è il cibo preferito. Non lo so. Se non è solo... Non volevo farlo incazzare. Ecco, hai visto? E mo? Che gli diciamo a questo? Ma ronneghi. Gona, gif su art. E... No, ma non è. Bro, bro. We report Garen, but now win. Come on. Eh, ma non è tanto. È bisogna tenere il morale alto, se no... Uh, mamma. E qua finisce malissimo. Do something. Però ecco, non morirci tu. Instead of looking at me. Niente. Qualcosa mi dice che... Ecco, è partito. Che ha detto, monascione? No, du hurres nock. Vabbè, ci sta pensando Twitch. La bot? Eh, morte di nuovo. Oh, però uno per uno, va bene. Fa cul... Sc-gnao. Agis... To. L'ho lanciata più forte io. Sto flammando in qualche lingua sconosciuta che esiste, però, eh. E mi banneranno. Sc-gnao, secondo me, vuol dire qualcosa di più. Oh, Twitch ha fatto roba, eh. Aiuta a fare il drago. Sì, aspe. Arrivo. Sc-gnao. Ecco qua. Muro di gas per Urgot. Easy. Hai visto? Hm. Io, però, non penso di... Fare la ulti. Hai visto quanto ho tankato? Non mi ha tolto nulla. Beh, allora... Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Ma... Così è... Ok, ulti, ulti! No! Nooo, va bene. Va bene, non fa niente, stava... Allora, raga, io ci tengo la vostra costa. E dai! Se guardate la live troppo colorata e luminosa, stanotte andate a dormire col mal di testa, non vi trovate bene. Non vi viene sonno. In questo modo i colori sono più deboli, mi fanno meno male degli occhi. Eh, mannaggia. Io ci tengo la vostra costa. Giusto. Grazie, in c'è. Ma figurati. Dovresti morire anche tu un po' più spesso. Sei morto troppe poche volte. I tuoi viewer stanotte erano tutti gli occhi rossi. Ha lasciato sua mia W, ma penso l'abbia fatto nel momento esatto in cui si sta attivando l'effetto, tipo un millisecondo prima. Vincenzo sta intando. Beh, questo è fattuale. S-r-u-ca-s-g-u-l-o. S-r-u-ca-s-g-u-l-o. Sto cogliendo l'occasione, ma vabbè, ma è tutto sotto controllo. Ho l'item all'infinito, dovrei sciogliere qualsiasi cosa. Ma sono lingue umane. Eh, adesso non pretendete troppo. Non lo so. Mo dire che il napoletano umano, cioè... Guarda che l'UNESCO dice... Eh, cosa dice? No, 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 è un meme perché Napoli ogni volta che gli flammì la lingua dicono che è riconosciuto dall'UNESCO, non è un dialetto. Lingua napoletana patrimonio dell'UNESCO. Eh, capito. Ogni cosa, patrimonio. Una volta sotto i miei video hanno commentato che tipo, l'arte della... Cioè, il pizzariolo napoletano è patrimonio dell'UNESCO, ma l'ha scritto seriamente. E sì. Non dovrei provare sto switch, ho paura che mi abbandona all'improvviso. Eeeh. Sbaw. Dudungu. Ma c'abbiamo quello in base? Vabbè, allora farò la stessa cosa anch'io. Eh, ma sta killando Kaiser. Mi sa che dobbiamo andarci noi in base, invece. Io prendo il cazzo. Guarda, gli rompiamo le stesse cose che ci rompe. Vabbè, tu vai e io faccio il resto. Vai, tu rompi. Rombo, rombo. Distruttano i inibitorre. Easy. Ma dove sono gli altri, i nemici? Eh, stanno arrivando. Ok. Sfreccia, sfreccia. Non ti preoccupare, è tutto sotto controllo. Kill a tutti. Bravo. Ok. Devo fare la R su quello. Devo fare la Galeforce dall'inizio senza flashare, ma non sarebbe stato così scenico. Ho fatto proprio un dugungu. E adesso? Perché mi ti consiglii quest'item? Ti ricordo che sei tu il danno fisico del team. Si può fare Memento Mori e Lord Dominic insieme, non dovrebbero bloccarmeli. Noi siamo nel 2014. Sono due oggetti separate adesso. Però se hanno tipo... Hanno... Scusami. Perché... Quello che hai tu non dà più penetrazione. Ah. Guarda un po'. Pazzesco. Eh, lo so. Una volta davanti a penetrazione devi scegliere quali di due ti aggradava di più. Adesso invece... E ma i dimmi non gestivano queste cose, andiamo. Non c'erano. Hai uno! Oddio, che ho incontrato qua? Che cazzo c'è? Sta sbattendo tutto. Ecco, Vincenzo. E Vincenzo Inta. Vai te il giuro, sono entrato lì dentro. Guarda come ti pingano, guarda come ti pingano! No R. Quigiana. Il povero Vincenzo. 12 morti. Non fossi in due commedia, direi che lo stai facendo apposta. Capito? Quella è la parte divertente. Che sto giocando... Cioè, non sto trollando. Mi farebbe comodo dire sto trollando, ma non sto troppo. A parte in chat. Ah, qua. Ragazzi, se vi piacciono i colori, aprite la live di Pieri. Che vi devo dire. Questa live è grigia. Koopa. Dark. Vabbè, mo' prova a gruppare. Dai, mi fido delle vostre azioni. Sì, vabbè. Affanculo. Chiana, sparisci. Chi è rimasto? Diana è coso? Arrivo, arrivo. Ah, vince il tuo! Vai, vai! Non voglio fare la R. Non serve, non serve. Facciamoci questo al volissimo. Andiamo a difendere. Io sto scorrendo dalle palle. Ah, vabbè. Non ho mangiato, sto bravo. Ma che è la soul? No, no, no. Spero siamo a tre. Siamo a tre. Ne avremo quattro. Mamma mia, quante attack speed mi dà sto cosa. Adesso prendo il rely. Mamma mia. Te li faccio danno, ma esplodo. Infatti... Boh, uno sterak. Non lo so. Così. Uno sterak rinforzante. Dopo tutto critico e addirittura. Oh, però non sto barando da un sacco di tempo. Meno male. In media avevo ancora morto da chiama. In tre minuti. Eh beh, sì. Però dico, da allora non sono ancora morto. Che affondi. Io sono full build. Mi sarebbe piaciuto fare penetrazione magica, però, detta sinceramente, preferisco andare a questi oggetti. Ma tanto, vabbè, ha solo un item, Magic Resist, Will, Urgot. Eh, però c'ha anche le scarpe, in realtà. Ne ha, ne ha. C'ha 173 di Magic Resist. T'assicuro che non è poco. Mi riduce il... Gli faccio un terzo del danno. Vabbè. Però ho quasi 500 di HP. Oddio. Let's go. Altro item per me. Ma voi stiate andando a morire. Morire? Ma io sto carriando, non c'è. E allora vengo a carriare anch'io. Sta arrivando. E arrivo subito. Let's go. Dove come andare questa baldracca. Esce. Ed's. I carry a diss. Bravo, vince. Biemali tutti. Zcagnao. Of course you did. Ma come era? Oh, hai 12 kill, eh? DK più kill di Kai's, sfottila. More kills than Kai'sa. La poverina Kai'sa, non so come eri. Ti sono trollata già da sola. More kills than eco. Eccoci stata. Flammato perché vi rubavi la Giunda. Uh, cazzo. Perché cazzo è successo? Ma non so come scrivere den. Vabbè, non fa niente. Vabbè, non importa. Grande. Easy. Manco mi vuole riportare. Oddio, il Zuren. Mamma mia, ragazzi. Perché non mettono sì? Dai, madonna mia, che scarsi. Che partita incredibile, ragazzi. Becchens. Honor istantanea Becchens. Più 26 lp, madonna, io mo' gioco con quest'account a sto punto. Ah, le. Sarà il mio nome? Per 9, Garin. This shit is Garin. Ma poi c'è, dice report flammando, dicendo cose bannabili. Ingenio. No, non lo report. No, no. I drop and... Non l'ho mai detto. Tutto molto incredibile. Ci scappa un altro game? Ma sì. Chiedono. Ma sì. E...